Amici di Android Blog, Huawei Ascend G6 4G che sta girando questo video, andiamo subito a ruotarci e a tentare un controsole per vedere l'adattamento alle varie condizioni di luminosità, riportiamoci giù velocemente per vedere come funziona il suddetto adattamento, andiamo a camminare per vedere quanto rimane stabile il video, non c'è uno stabilizzatore ottico su questo Huawei, andiamo ad avvicinarci per effettuare una ripresa macro, adesso spostiamoci velocemente, aspettiamo la messa a fuoco, davvero molto veloce, muoviamoci verso destra, muoviamoci verso sinistra velocemente, proviamo a fare uno zoom, zoom fino a 6x anche alla risoluzione massima, non interpola i pixel ovviamente, zoom ovviamente digitale, per questo video girato dalla camera da 8 megapixel di Huawei Ascend G6 4G alla risoluzione massima di Full HD.